Continua la campagna vaccinale, mentre il circa il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ecco una nuova circolare del Ministero della Salute, è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 decorsa in maniera o asintomatico o asintomatica, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro sei mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi dalla guarigione. In pratica chi è stato infettato e successivamente guarito potrà ricorrere ad una sola dose, non oltre l'anno del tampone negativo. Inoltre continua la circolare per i soggetti con condizioni di immunodeficienza primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista. Ieri intanto in Italia si sono registrati 4.259 nuovi casi con un tasso di positività all'1,8%, 21 morti stabile il dato sulle terapie intensive.